E come ogni volta avviene, anche in questa occasione si segnalano sciacalli in azione dopo il terremoto. Persone che però non si recano sui luoghi di disastri e che di notte scavano tra le macerie in cerca di oggetti di valore da portare via. Gli sciacalli che sono in azione in questi giorni, infatti, con la scusa di dover effettuare controlli sugli abitazioni post-sisma, si introducono nelle case, soprattutto di anziani, per derubarli. Questi signori, che evidentemente tali non sono, si spacciano per dipendenti comunali e mostrano falsi tesserini e entrano negli appartamenti con la scusa di effettuare delle verifiche, ma si tratta di una vera e propria truffa. L'allarme arriva da Federconsumatori, attenzione, falsi tecnici e ingegneri del comune che tentano di entrare in casa per rubare. Le segnalazioni maggiori arrivano dalle zone del centro Italia, da quei comuni che hanno avvertito comunque la scossa, ma in queste ore qualche caso si è verificato anche in Irpinia, a dare l'allarme Stefano Farina, sindaco di Teura. Quindi sappiate che nessuna amministrazione, neppure in Irpinia, ha previsto di effettuare sopralluoghi attraverso tecnici comunali nelle abitazioni private. Si invitano pertanto i cittadini a non dare credito a persone che dovessero qualificarsi come tecnici mandati dal comune e quindi evitare che queste persone entrino in casa, ma soprattutto allertare immediatamente le forze dell'ordine.